allora possiamo iniziare questa chiacchierata serale intanto grazie a tutti benvenuti mi fa molto piacere mettervi tutti quanti questa sera parliamo di meteorologia per il nostro la nostra quarta chiacchierata non la chiamiamo lezione chiacchieratina così informale diciamo anche perché la meteorologia è un argomento veramente veramente complicato e certamente in mezz'ora non possiamo sviscerarne tutti i segreti ci limitiamo a fare una carrellata proprio a grandissime linee in modo che chi è incuriosito di più dall'argomento può trovare degli spunti per approfondire in maniera più diciamo mirata su certi dettagli allora vediamo un po dunque 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 condividiamo ecco qua allora eccoci qui parliamo quindi di meteorologia meteorologia deriva dal greco studio dei fenomeni celesti in generale per noi piloti o aspiranti i fenomeni celesti sono sostanzialmente l'aria perché come sapete l'aria è l'elemento che fa volare i nostri aerei e nei quali noi diciamo siamo immersi continuamente quando voliamo quindi per noi meteorologia studiare l'aria non significa fare previsioni del tempo intendiamoci non è il nostro mestiere previsioni del tempo sono una bestia molto molto complicata per la quale ci vogliono studi decisamente molto più sofisticati di quelli che possiamo fare noi e nonostante tutto rimane comunque una scienza niente affatto esatta quindi noi non prevediamo il tempo ci mancherebbe altro ci limitiamo a capire però le cose che vengono magari dette durante le previsioni del tempo in modo tale da poterle applicare al nostro campo e al nostro settore perché studiamo la meteorologia quando chiedete a un pilota perché fa qualcosa 99 su 100 vi risponderà per motivi di sicurezza perché praticamente tutto quello che fa un pilota è per motivi di sicurezza anche la meteorologia ovviamente si studia ed è un argomento importantissimo anche durante il corso per il conseguimento dell'attestato e l'esame di di abilitazione perché ovviamente non soltanto per un discorso di incidenti che possono capitare ma proprio perché capire che cosa succede all'atmosfera attorno a noi mentre vogliamo ci aiuta a entrare anche più in sintonia proprio con quello che è l'ambiente nel quale il nostro nostro aereo si muove quindi per noi meteorologia significa studiare l'aria allora l'aria che cos'è l'aria non è un gas singolo non è un un semplice gas è una miscela di gas è un insieme di gas e di vapori non vi sto a fare composizione chimica in generale ma diciamo che i quattro grossi bestioni che la compongono sono l'azoto l'ossigeno e il vapore acqueo più un 1 per cento di altre cose più piccoline ma sostanzialmente questa roba qua azoto e ossigeno formano diciamo la parte secca dell'aria che è l'aria diciamo che trovate nelle bombole o che trovate come diciamo aria all'interno di un autorespiratore di quelli da da subacquei mentre il vapore acqueo è proprio acqua allo stato di gas che viene che è disciolta ed è sospesa all'interno di questi di questi gas l'aria ha alcune caratteristiche fondamentali che sono caratteristiche fisiche che sono le seguenti temperatura umidità densità e pressione tra le altre ce ne sono altre noi vedremo in particolare temperatura umidità e pressione la densità dell'aria parte che è dipendente dalle altre ma alle quote alle quali i nostri aeroplanini volano è sostanzialmente costante quindi è meno significativa per noi le altre tre invece sono sono molto più importanti e sono quelle che consideriamo più a fondo questa sera allora partiamo dalla prima la temperatura temperatura ovviamente si misura in gradi gradi celsius gradi fahrenheit ci sono altre scale di temperatura tipo la kelvin ma a noi interessano queste due la celsius perché è quella che tutto il mondo utilizza tranne gli americani ed è la solita scala da 1 cioè da 0 a 100 0 vuol dire acqua ghiacciata 100 vuol dire acqua che bolle fahrenheit è la scala americana che conviene conoscere a livello anche solo di sentito dire perché spesso viene utilizzata dai bollettini meteo quando si parla di bollettini americani oppure viene utilizzata spesso da certi strumenti che possiamo anche trovare montati sugli aerei quindi conviene sapere che c'è l'atmosfera e la temperatura sono legate in questo modo da questo da questo schema che vedete sostanzialmente cosa succede la temperatura tende in genere a diminuire con l'aumentare della quota circa 6 gradi di differenza ogni mille metri questo vuol dire che più saliamo in genere e più l'aria si raffredda fino a arrivare intorno ai 10 11 chilometri dove troviamo questa prima linetta che vedete qui che quella che si chiama troppo pausa che è la fine di questa diminuzione da qui in su succedono fenomeni legati all'irraggiamento solare che fanno riaumentare la temperatura poi la fanno ridiminuire così via c'è un un serpente abbastanza a zig zag questo strato questa prima divisione dell'atmosfera che è la più bassa la troposfera che è la diciamo la zona in cui viviamo e la zona in cui volano gli aerei è la più importante perché in questo punto vedete qui cambia la situazione questo è l'inversione termica in quota cioè al di sopra di questo di questa zona di questo punto l'aria cambia andamento e da lì in poi in generale torna aumentare di temperatura questa inversione termica in quota a noi che voliamo molto più bassi in genere non è molto importante ce n'è una che è molto molto peggiore ed è l'inversione termica al suolo cos'è l'inversione termica al suolo succede per esempio d'inverno quando di notte il sole non ha riscaldato abbastanza il terreno il giorno precedente magari perché è inverno perché non c'è una temperatura abbastanza elevata quindi cosa succede che di notte l'aria al suolo si raffredda più velocemente di quanto fa l'aria sopra quindi succede un fenomeno inverso a quello che accade normalmente ossia che la temperatura tende a salire con la quota anziché scendere voi direte e quindi questo che cosa ci comporta cioè perché è così importante perché questo fenomeno da origine alla nebbia che è il problema numero uno dal punto di vista meteorologico per noi piloti VDS perché perché naturalmente guardate che bella foto questa qui vedete proprio chiaramente come la nebbia forma un catino per esempio è facilissimo di questa stagione per chi sale al campo nostro sua camerana arrivare su alla mattina presto per esempio sabato mattina sabato scorso per esempio è esattamente così e trovare un catino di nebbia quando pochi metri più in là c'era una visibilità perfetta questo capirete è estremamente suggestivo dal punto di vista del vedere la foto qui ma se ci trovi in mezzo con un aereo è molto molto pericoloso la nebbia come tale si può formare dovunque c'è una forte differenza di temperatura quindi può capitare in ogni momento dove per esempio su uno specchio d'acqua perché l'acqua magari è più calda quindi porta in alta umidità che poi viene condensata lì sopra sui pendii c'è nebbia per esempio sul versante sopravvento dei pendii che rotola a valle la nebbia si può formare in ogni momento ci sono queste condizioni in generale questo particolare tipo di nebbia questo che vedete in questa foto che è nebbia di condensazione si dissolve con il sole quindi se voi arrivate su a Camerana alle 8 di mattina la trovate verso le 9, 9 e mezza quando il sole comincia a salire non c'è più ma per esempio la nebbia in Valpadana spesso rimane per giorni e giorni e giorni e non va via neanche col sole perché quella è una nebbia diciamo di tipo differente perché il terreno non riesce a scaldarsi a sufficienza perché al di sopra dello strato di nebbia c'è lo strato di nuvole quindi la nebbia continuamente portata giù dalle montagne continua a ristagnare lì e non c'è sole che tenga e quindi continua a formarsi questo tipo di fenomeno che è decisamente pericolosissimo perché tende a formarsi piuttosto in fretta anche con cambiamenti di temperatura piuttosto ridotti quindi conviene sempre prestare la massima attenzione alla nebbia la nebbia è composta di umidità cioè è composta di vapore acqueo come dicevamo prima è in sospensione all'interno dell'aria l'umidità è proprio definita in questo modo la quantità di vapore acqueo presente nell'aria ci sono diversi modi di misurarla sostanzialmente ce ne sono tre sono questi dal meno importante al più importante per noi dal punto di vista meteorologico e di pilotaggio i primi due sono sostanzialmente una misura fisica che interessa ai fisici poco di più l'umidità assoluta i grammi di vapore in metro cubo l'umidità specifica i grammi di vapore in un chilo di aria invece l'umidità relativa per noi è molto più importante è praticamente la percentuale si misura in percentuale tra quanta umidità c'è nell'aria e quanta ce ne potrebbe stare quanta ce ne potrebbe stare vuole dire al di sopra di quella quantità che ce ne può stare dentro l'umidità condensa diventa non più vapore ma acqua allo stato liquido e quindi siamo alla saturazione infatti il mio professore di fisica mi direbbe è il rapporto tra umidità assoluta e umidità di saturazione questa umidità relativa indica né più né meno quanto umida è l'aria questo è un concetto che è strettamente legato al punto di ruggiada cos'è il punto di ruggiada? allora abbiamo detto che nell'aria c'è una certa quantità di umidità quanta ce ne può stare? dipende, non è sempre costante dipende dalla temperatura, dalla pressione e dalla densità dell'aria quindi il punto di ruggiada cambia cioè se l'aria si raffredda di umidità ce ne sta meno quindi in quel momento si condensa a forma goccioline quindi prima nebbia e poi acqua il punto, la temperatura in cui questa umidità condensa si chiama proprio punto di ruggiada, inglese dew point ed è importante sapere qual è esattamente nel momento in cui ci troviamo la temperatura del punto di ruggiada perché se la temperatura attuale cioè quella che stiamo misurando con il termometro è nell'intorno di due gradi circa dal punto di ruggiada in quel momento siamo a rischio nebbia se siamo sopra non siamo a rischio nebbia perché fa troppo caldo e l'umidità non condensa e quindi non forma goccioline quindi non forma nebbia se siamo sotto fa troppo freddo quindi l'umidità condensa e cristallizza e forma ghiaccio che poi tenderà a precipitare quindi avremo altri problemi del tipo potremmo avere ghiaccio sulle ali tutte queste cose ma non forma nebbia in genere quindi la visibilità dal punto di vista dell'aria terza anche quando c'è ghiaccio è migliore, molto migliore di quando invece siamo in quella situazione in cui non fa così freddo da avere ghiaccio ma non fa così caldo perché l'umidità sia dissolta quindi siamo nel momento in cui condensa proprio e ci crea la nebbia questo è quando la temperatura corrente è attorno circa al massimo intorno ai 2 gradi intorno al punto di rugiata l'altro elemento fisico caratteristico dell'aria è la pressione dell'aria l'aria naturalmente ha un certo peso anche se non ce ne accorgiamo perché ce l'abbiamo tutto intorno diciamo che un metro cubo di aria diciamo standard quindi a temperatura e pressione a livello del mare temperatura umana intorno ai 20 gradi pesa un chilo e tre circa questo peso essendo un gas è distribuito su tutta la sua superficie quindi quello che noi avvertiamo non è tanto il peso dell'aria come fosse un cubo solido ma è la spinta che l'aria esercita contro le superfici con cui viene a contatto e questa è la pressione questo chiunque abbia fatto le medie lo conosce è lo schema dell'esperimento di Torricelli nel quale lo scienziato italiano ha misurato la pressione dell'aria e ha scoperto che esisteva la pressione dell'aria prima non si pensava nemmeno che ci fosse come ha fatto e lo abbiamo visto tutti a scuola ha preso un tubo di vetro chiuso all'estremità lo ha immerso in un recipiente di mercurio poi lo ha rovesciato e il recipiente diciamo la colonna di mercurio è caduta rimanendo sospesa fino a un'altezza di 76 centimetri al di sopra questa parte è rimasto il vuoto e Torricelli si è domandato per quale motivo il mercurio non va giù e giustamente ha pensato perché è bilanciato dalla pressione dell'aria che spinge sulla superficie del recipiente e compensa il peso del mercurio e il peso è di circa un chilogrammo per centimetro quadrato poco di più e questo è il primo barometro e la curiosità che ci si poneva alle medie che vi ripropongo qui è perché ha usato mercurio perché il mercurio è estremamente denso quindi se l'è cavata solo con 76 centimetri perché se l'avesse fatto con un tubo dell'acqua qualche scuola lo fa per esempio ci sono ho visto proprio su youtube degli esperimenti di certe classiche ovviamente non potendo usare il mercurio perché è estremamente tossico lo rifanno usando l'acqua ma in questo caso la colonna d'acqua deve essere di circa 10 metri non di 76 centimetri quindi il primo barometro misurava proprio la altezza di questa colonna di mercurio con 76 centimetri e questa misura è rimasta infatti la prima misura di pressione che è stata fatta è proprio l'atmosfera che è la pressione dell'aria a temperatura e diciamo livello del mare in condizioni normali ed è calcolata come 760 millimetri di mercurio oppure in fisica la chiamano tor 760 tor non sono le uniche unità di misura ce ne sono altre che a seconda della situazione vengono adoperate per esempio in meteorologia l'unità di misura più adoperata è il bar diviso in millibar e il pascal che però perché piccolino si prende a 100 alla volta letto pascal e la conversione per chi volesse vederla è questa un'atmosfera sono 1013 millibar che corrispondono a 1138 pascal 760 tor 760 millimetri di mercurio bene la pressione perché è importante per la meteorologia perché la pressione atmosferica cambia in continuazione cambia verticalmente ovviamente più si sale e più la pressione diminuisce come ben sanno quelli che scalano le montagne molto alte che si devono portare le bombole di ossigeno ma il cambiamento non è lineare è molto complicato per quello che la meteorologia è una scienza incasinata da studiare e naturalmente cambia anche in senso orizzontale perché la pressione dell'aria magari qui è diversa dalla pressione dell'aria a 10 km più in là e questo cambiamento anche questo non è lineare ed è anche molto più complicato di quello verticale ora la cosa interessante è quello che fanno i meteorologi quando misurano la pressione loro cosa fanno misurano pressione in vari punti dopodiché cosa fanno segnano i valori su una cartina proprio hanno varie stazioni meteorologiche in vari punti segnano questi valori su una carta poi guardano quali dei punti che hanno segnato hanno gli stessi valori e i valori uguali ci tirano delle linee che li congiungono e ottengono questa che è quella che vediamo spessissimo al telegiornale una carta con delle linee alla stessa pressione che si chiamano isobare isos stesso bar pressione le isobare sono queste linee colorate che vedete formano delle aree chiuse la cosa interessante è che se l'area chiusa va da una pressione più bassa a una pressione più alta ad esempio questa parliamo di anticiclone mentre se la pressione tende a scendere all'interno di quest'area parliamo di ciclone e la cosa caratteristica è che all'interno di un anticiclone il vento tende a ruotare sempre in senso orario mentre all'interno di un ciclone tende a ruotare sempre in senso anti-orario cicloni e anticicloni sono interessanti dal punto di vista meteorologico perché sono associati normalmente a bel tempo e brutto tempo dato che il ciclone tende a portare diciamo aria verso il suo interno aria umida al di sopra di una circolazione ciclonica si formeranno in genere nuvole mentre al di sopra di una circolazione anticiclonica dato che spinge all'ingiù ed è vento divergente tenderà a soffiare via l'umidità e quindi gli anticicloni come ben sapete l'anticiclone della zorra è il più famoso di tutte è associato in genere l'anticiclone è associato a bel tempo quindi la pressione elevata ci porta bel tempo ultimo argomento di questa chiacchierata veloce sono i metar saltiamo un attimo di palo in frasca ma per noi i metar sono importantissimi che cosa sono i metar sono i report che una stazione meteorologica in genere un aeroporto trasmette per indicare quali sono le condizioni meteo in quel momento intorno a sé vengono generati ogni ora ogni mezz'ora i metar sono progettati per essere trasmessi in maniera automatica sono stati inventati nel 1968 quindi sono vecchi come me e inizialmente venivano trasmessi attraverso telescriventi o attraverso codice mors adesso possono essere sono trasmessi automaticamente ma possono anche non essere generati automaticamente negli aeroporti molto spesso c'è un ufficiale meteorologico che li genera altrimenti possono essere generati automaticamente da delle apparecchiature apposta la loro caratteristica è di essere estremamente concisi un metar ve ne faccio un esempio è questo qua questo è il metar dell'aeroporto di Genova dell'altro ieri e in così poche così pochi caratteri vedete da un mucchio di informazioni molto importanti per quanto riguarda la situazione meteo vediamo ovviamente ci sono siti che ve lo spiegano ci sono applicazioni che li decodificano però a grandi linee un metar è questo la prima parte dice chi ha emesso il metar in questo caso è il codice ICAO dell'aeroporto di Genova il secondo gruppo di cifre dice quando è stato omesso 08 il giorno 8 del mese corrente 1420 Zulu quindi 1420 UTC della diciamo del fuso orario di Greenwich il terzo gruppo indica le condizioni del vento in quel momento 140 gradi 08 nodi questo è il sogno di tutti i piloti CAVOC vuol dire cloud and visibility ok niente nuvole e visibilità oltre 10 chilometri se al posto di CAVOC c'è un numero quello indica il il numero di metri di visibilità attorno all'aeroporto dopo questo possono venire altri gruppi di lettere di cifre che indicano cosa sta succedendo in quel momento ad esempio se piove se ci sono nuvole alte basse quali sono qual è la copertura del cielo e così via ci sono parecchi gruppi abbastanza complessi da da interpretare che in questo METAR per fortuna non ci sono quello che invece ci interessa e sono gli ultimi due che ci sono sempre sono questo 1407 questo dice che in quel momento c'erano 14 gradi barra 07 quello è il punto di rugiada di cui parlavamo prima il fatto che ci siano 7 gradi di differenza tra 14 e 7 significa che siamo lontani lontanissimi dal punto di rugiada e quindi in quel momento non c'era nebbia e non c'erano neanche le condizioni perché si formassero e questo è molto importante da sapere se invece fosse stato 807 o 607 allora sarebbe stata una situazione critica per quanto riguarda la nebbia con possibilità che si formasse decisamente alte l'ultimo gruppo invece è la pressione atmosferica in etopascal o in millibar che Dio lo voglia e in questo caso vedete 1031 quindi alta pressione questo è importante anche per noi i piloti perché rappresenta la pressione da indicare sul nostro altimetro nel momento in cui fossimo in quell'aeroporto o nelle vicinanze dall'aeroporto e ci apprestassimo a decollare o fossimo in quella zona perché quello se noi impostiamo sul nostro altimetro questa pressione l'altimetro ci dà la quota esatta alla quale si trova l'aeroporto stesso quindi per esempio se noi abbiamo 1031 millibar a Camerana il nostro altimetro a Camerana ci dice 2040 che è la quota alla quale si trova esattamente il campo per tutte le altre informazioni relative ai metar perché questo è un esempio semplice ce ne sono altre di più complicati ci sono tantissimi siti che ve li spiegano nel dettaglio uno è questo che è molto bello nel quale ci sono tutti i gruppi anche che io qui non ho citato bene sono le nove e mezza più o meno siamo nei tempi in cui volevo essere qualcuno ha domande dubbi perplessità incertezze per quanto riguarda quello che abbiamo detto finora ok se non ci sono domande io vi ringrazio della partecipazione come vedete abbiamo proprio fatto una carrellata velocissima se siete interessati magari la prossima volta parleremo ancora di meteorologia parlando di vento e di nuvole che sono gli altri due diciamo grandi argomenti dei quali dobbiamo i piloti si interessano e quindi non mi rimane che ringraziarvi salutarvi e darvi appuntamento alla prossima chiacchierata grazie ancora e buona serata a tutti ciao 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 a tutti ciao 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 a tutti ciao 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 grazie ciao 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 Grazie.